Torino, trama spezzata però da per sotto, c'è l'opportunità per il contropiede, dalla parte opposta invece si va in verticale per Nedved, ci sono Del Piero e anche Treseguet, Nedved in area, guarda dentro il cross e c'è il gol del 3-0, il raddoppio di Alex Del Piero e ancora qualcuno critica questo giocatore. Adesso dobbiamo dire che la ripartenza della Juventus è stata catastrofica per il Torino, era addirittura 3 contro 1, pensate che differenza c'era, Nedved non ha fatto altro che riceve il pallone da per sotto, è andato via da solo, inquadrato Buscio, guardate qua, era completamente solo, c'era Del Piero e non solo Del Piero, si guarda dietro, c'era anche Treseguet, ecco l'azione che si vede molto bene, guardate, tutti i giocatori di Torino fuori posizione, incredibilmente la difesa aperta in questa maniera, è chiaro che sta diventando dura, troppo tragica.